Ciao ragazzi! Allora, prima che vi parli di questa promozione incredibile che io mi sono inventato per premiare sempre di più i miei follower fedeli, visto che gli altri di blocco tutti. Allora, vi volevo intanto aggiornare sulla situazione di questa coppia di cuccioloni che appena avete visto. Ecco, maschio quello tigrato e la femmina bianco e arancio. Allora, un po' di tempo fa ho messo un annuncio che diceva questa coppia di cuccioli è riservata a quelli che non hanno tanto pretese nella guardia. Oh, e loro si sono offesi. Doveste vedere la guardia che hanno iniziato a fare. Quindi ritiro questo annuncio che gli avrei venduti per un cocomero e un peperone. Chiedo scusa ai due cuccioloni che si sono messi a far la guardia, quella che è sentita abbaiare selvaggia che dovrebbe partorire da più di una settimana e non ci pensa neanche, anzi è più vispa che mai. E quindi questa coppia è stata classificata adesso qui nel nostro allevamento come femmina invadente che non vale niente. Lei ve la regalo. Lui invece è stata classificata a parte gli scherzi come coppia di seconda scelta caratteriale perché non saranno probabilmente mai di prima scelta ma potranno svolgere un lavoro eccezionale. Oltre a essere così belli, simpatici, potete metterli con qualsiasi bambino piccolo e loro il massimo lo consumeranno di leccate. Però parliamo della nostra promozione. Allora, da oggi, forse da oggi o forse da domani, adesso ci devo pensare, parte una promozione dedicata solo ai miei follower più affezionati, ovvero tutti i giorni metterò un videocorso e voi lo capirete perché legato al testo ci sarà il tassello pubblicitario dove solo quel videocorso e solo fino alle ore 24 di quel giorno che io avrò pubblicato il post, ci sarà uno sconto udite udite del 30% che non è mai accaduto. Questo perché? Perché voglio continuare. Vedo le persone che quando iniziano a studiare poi non smettono più, passano dall'altra parte, si rendono conto qual è la vera cinofilia e tutte le minchiate che avevano pensato prima e avevano dato a retta a chissà chi. Quindi, solo per quelli che mi seguono, perché non sarà una cosa costante, tipo adesso io pubblico un post, bene, quelli che mi seguono, che vanno sempre spontaneamente sul mio profilo, capiranno qual è e solo su quel videocorso che metterò nel post avete poi tempo fino a stasera alle 24 a acquistare questo videocorso. E i videocorsi cambieranno, io ho pensato di estendere questa promozione a 10 videocorsi e il 30% su quelli più cari sarà tanta roba, ma non saprete mai, sarete poi obbligati a seguirmi ed è quello che io voglio che mi seguite sempre, che veniate voi spontaneamente come fa lei che mi vuole mangiare il telefono a cercarmi per vedere quale videocorso ha il 30% di sconto. Quindi, occhi ben aperti, venite sempre sui miei profili, tutte le mie pagine, mi dispiace per i 14 o 15 mila che mi seguono su YouTube, ma sarà una cosa fatta solo per quelli di Facebook, ma voi, adesso ho visto che chiunque, basta andare su Google e scrivere il nome delle mie pagine, non potete pubblicare ma potete vederle, quindi è un'informazione che ormai si può dire che libera tutti, o se no le iscrivete su Facebook, tanti dicono no Facebook non ce l'ho, è ora, perché adesso siamo 10 anni, la maggior parte delle cose oggi noi le facciamo tutte su Facebook, dove io pubblico post, informazioni, consigli eccetera, ok? Quindi di tutti gli altri social dove io sono presente anche TikTok, Instagram eccetera, e dovete, per aderire, dovete seguirmi su Facebook. E la pagina, io ne ho quattro, ma la pagina più gettonata, più anche il mio profilo Ezio Maria Romano, è Ezio Maria Romano, cani da guardia e sicurezza. È lì che voi trovate molto più facilmente quale videocorso è in promozione ogni giorno, e non tutti i giorni, intanto ne metto uno, quel giorno, quel videocorso, diglielo, 30% di sconto. Va bene? Ok? E vi auguro a tutti buona giornata, e a presto, e lei la botta me la doveva dare. A presto.